I dati misurati non hanno evidenziato a distanza di 5 km, ossia lì dove si trova la stazione della rete fissa di monitoraggio della qualità dell'aria, significative alterazioni in concomitanza con l'incendio. E quanto emerso dai primissimi risultati giunti dall'ARPAC rispetto al monitoraggio effettuato dopo che, nella tarda serata del 25 aprile scorso, un deposito di fosso imperatore a nocera inferiore era stato travolto dalle fiamme. Inoltre, dal compionamento di aria effettuato per la ricerca di diossine e furani nell'arco di 24 ore nei pressi del sito interessato dall'incendio, è risultato un valore di concentrazione pari a 0,11 pgnmc, inferiore al valore di 0,15 pgnmc proposto dalle linea guida del LAI, organismo tecnico tedesco, uno dei pochi riferimenti disponibili. L'Agenzia Ambientale della Campania era intervenuta immediatamente sul posto in seguito alla richiesta dei carabinieri avviando il monitoraggio delle diossine e dei furani. Inoltre, i tecnici del Dipartimento di Salerno avevano anche attivato la mattina seguente il monitoraggio di altri inquinanti atmosferici, tra cui il PM10 e gli idrocarburi policiclici aromatici. I risultati relativi a questi inquinanti, così come i risultati del monitoraggio delle diossine successivi al primo ciclo di 24 ore, verranno diffusi non appena disponibili. L'incendio aveva devastato lo stabilimento della RPN, ricostruzione pneumatici nocerina, azienda del gruppo De Marinis. Le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nociara Inferiore sono tuttora in corso. Le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nociara Inferiore sono tuttora in corso.